EICMAN Ciao a tutti, siamo qui nello stand di RMS dove voglio presentarvi il nostro nuovo progetto di batterie a litio Si chiamano LION R e sono le sorelle delle LION tradizionali Abbiamo lanciato questo progetto praticamente da pochi mesi, lo presentiamo in anteprima ad EICMAN È un progetto rivoluzionario nel senso che fino ad ora le già nuove batterie LION che andavano a coprire la gamma di moto e scooter presenti oggi sul mercato Vengono affiancate dalla LION R, un prodotto che si rivolge soprattutto al mondo off-road, al mondo racing e al mondo custom Due batterie che coprono praticamente l'intera gamma del parco circolante con dimensioni ancora più ridotte Uno spunto ancora maggiore e un peso ancora più contenuto